Eccoci e bentornati sul mio canale. È arrivato un nuovo aggiornamento su Infinite Warfare. Sigla! Brevissimo video di aggiornamento su Call of Duty Infinite Warfare perché è arrivata la patch 1.19 in questi minuti. Quindi aggiornamento disponibile attualmente soltanto su PS4. Il changelog ancora non l'ha svelato Activision e tornerò con un video dedicato se ci saranno novità importanti sul gameplay. Quello che è certo è che sono state introdotte due nuove armi. L'LMG, l'Atlas, quindi questo mitraglione pesantissimo che potremo utilizzare all'interno del multiplayer, ovviamente lo dovremo trovare all'interno dei lanci di rifornimenti, e una nuova mitraglietta che vi avevo già anticipato alcuni giorni fa, la Rajin EMX, che sembra essere e ricordare un po' come filosofia il Vesper di Call of Duty Black Ops 3. Qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate se avete provato già una delle due nuove armi e noi ci vediamo con tanti nuovi video.